Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno, sono Antonina Scolaro, svolgo l'attività di avvocato nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori per vocazione. Il tavolo interistituzionale Tutti in Rete che oggi presentiamo nasce a Torino e coinvolge tutte le istituzioni presenti sul territorio regionale. È un'esperienza unica che a sua volta nasce da un precedente gruppo che si chiamava Minore Informazione, ma che aveva gli stessi identici obiettivi, ovvero quello di tutelare i diritti dei minori a fronte dell'attività di informazione svolta dai mezzi di comunicazione, televisivi, di stampa, eccetera. È un'attività particolarmente interessante per quanto riguarda tutti i componenti del tavolo in quanto ci è data l'opportunità di svolgere effettivamente un ruolo culturale di sensibilizzazione rispetto a come in concreto debbano essere tutelati i diritti delle persone di minorità. Diritti che sono ormai autonomi, indipendenti e non più sottoposti all'azione degli adulti, ma che vengono tutelati anche contro la stessa volontà dei genitori che ne rappresentano la responsabilità genitoriale. Il gruppo si ritrova quindi per svolgere un'attività di cultura consapevoli del fatto che anche l'informazione ha una intrisseca e utilissima funzione che è proprio quella di divulgare una diversa cultura di tutela dei diritti delle persone di minorità, dei nostri bambini e degli adolescenti. Cultura che passa necessariamente rispetto alla tutela dei loro diritti. Quindi abbiamo lavorato molto in questi anni nel propagandare l'esistenza di questo gruppo come punto di riferimento anche consultivo per come formulare una buona informazione a tutela dei diritti delle persone di minorità. Io sono Alberto Parola, sono un docente di pedagogia sperimentale dell'Università di Torino. Mi occupo di Digital Education. Il Tavolo Tutti in Rete ha prodotto recentemente un glossier, un glossario dossier, che ci consente di divulgare quelle che sono le idee, gli obiettivi del tavolo. Questo prodotto lo potete trovare sul sito di Tutti in Rete, tuttinrete.org ed è diviso sostanzialmente in tre parti. La prima, più riflessiva, che riguarda sostanzialmente la possibilità eventuale di un cambiamento culturale su questo tema, cosa non facile naturalmente. Una parte invece di voci, una cinquantina di voci che vanno a fare il punto, soprattutto a descrivere correttamente quelle che possono essere le possibilità nel mondo della comunicazione. E un'ultima parte, più legata a proposte formative e didattiche, che consentono al tavolo di essere non solo parte riflessiva, ma anche di diretto contatto con tutto il territorio regionale. Una delle voci degli glossier che mi fa piacere rammentare è quella dell'ascolto del minore, perché è un diritto del bambino, del fanciullo, essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano. È un'attività che compie il giudice e questo richiede che anche i nostri giudici abbiano un'adeguata formazione nel rapportarsi con un bambino o con un adolescente che conosce proprio in quel contesto. Ed è la forma più autentica di tutela del diritto delle persone di minore età. Sì, anch'io porto quello che può essere un'istanza importante, cioè il fatto che viviamo nell'era digitale. Tanti dei problemi che si sono creati in questi decenni, negli ultimi 20 anni si sono sicuramente esacerbati per tutta una serie di motivi. Il mondo della comunicazione è in questa fase un po' in difficoltà, perché evidentemente gli aspetti da considerare sono moltissimi e con molte sfumature. Sono Francesco Garganese, sono il presidente di un'associazione di volontariato che si chiama Sorveglianza Aerea Territoriale. Abbiamo base a Torino, siamo nati a Torino nel 2011. La nostra è un'associazione un po' particolare, che è diventata organizzazione di volontariato nel 2013 e svolge ricognizione periodica del territorio con mezzi aerei. Cosa si intende per mezzi aerei? I mezzi aerei sono stati inizialmente impiegati a livello di aeroplani, di autogiro e di elicotteri. L'autogiro è un mezzo un po' particolare a cui noi siamo molto affezionati, perché è il padre dell'elicottero e sfrutta le sue capacità di estrema agilità sul territorio senza avere questi altissimi costi che gli elicotteri hanno. Dal 2013 noi abbiamo anche iniziato a utilizzare i droni, che sono un oggetto che in questo momento è in grande trend positivo e in cui si stanno interessando molto i media, per poter fare essenzialmente quello che viene chiamato nel gergo moderno materiale geomatico, ovvero materiale video, materiale audio, materiale filmato, fotografie, tutto ciò che può essere utile per quanto riguarda lo studio da parte degli enti territoriali per poter analizzare il territorio e tenerlo sotto controllo. Non facciamo normalmente attività con enti privati, lo facciamo soltanto con enti pubblici e istituzionali, essendo parte della protezione civile, quindi agiamo con una sorta di sistema che si chiama convenzione e queste convenzioni praticamente ci permettono di utilizzare una collaborazione continua con l'ente pubblico per poter andare a studiare le sue criticità del territorio e andare a realizzare quelle che sono le documentazioni per poter fare soprattutto previsione e prevenzione. La protezione civile ha quattro funzioni fondamentali che sono la previsione, la prevenzione, il soccorso durante le emergenze e il superamento dell'emergenza per poter poi tornare alla vita normale una volta che è accaduto. Noi agiamo essenzialmente nelle prime due con gli enti preposti, quindi con questi enti pubblici e poi nel superamento dell'emergenza andiamo soprattutto a riportare quelli che sono i danni che poi devono essere messi in sicurezza con delle azioni successive. Per poter diventare parte della sorveglianza aerea territoriale noi facciamo un'azione di promozione nelle scuole, essenzialmente il nostro target di giovani, principalmente fatto dai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori e dell'università che possono affiancarsi a noi, noi siamo anche fornitori di servizio civile nazionale, per poter fare dei progetti per poter diventare o fotografi in aria oppure piloti di droni oppure perché no anche piloti di velivoli con ITER abbastanza particolare, diverso da quello che può essere quello di un pilota di aero di linea. Essenzialmente come lavoro lavoro che può essere fatto a livello di ricognizione, ci sono sicuramente la parte appunto previsionale che è fatta da visuali del territorio concordate per quanto riguarda criticità varie, ma abbiamo anche operato durante la nostra storia in delle grosse emergenze, soprattutto territoriale, per quanto riguardava eventi idrogeologici, quindi alluvioni e altro tipo di eventi calamitosi, andando a far vedere immediatamente dove dovevano essere gli scenari di intervento per poter andare a prestare soccorso alla popolazione e alle comunità colpite. Normalmente la nostra associazione è riconosciuta in ambito regionale, stiamo facendo anche un percorso per aprire delle nuove sezioni, la protezione civile opera essenzialmente in ambito provinciale, quindi andiamo a interloquire con le province per poter andare ad aprire delle sezioni territoriali. Il Piemonte è quasi totalmente coperto, mentre invece stiamo approcciando regioni un po' vicine a noi, ma che hanno bisogno di questo tipo di servizio come la Lombardia e la Liguria. Per poter entrare in contatto con noi potete andare a visitare il nostro sito che è www.satvolo.org oppure inviarci un'e-mail all'indirizzo info-satvolo.org Siamo qui a presentare l'associazione ASPIC che è un'associazione dello studio del paziente immunocompromesso è nata nel 97 per la volontà di alcuni medici sulla cura delle patologie infettive nel momento in cui c'era un aumento dei casi di AIDS e di patologie apparentemente scomparse come la tubercolosi e in cui si era appunto capito che era importante offrire ai migranti un'azione, una cura globale che riguardasse non soltanto la cura prioritaria per il sistema nazionale sanitario ma soprattutto della prevenzione e questa la si faceva soprattutto cercando di approfondire le caratteristiche epidemiologiche comportamentali e socioculturali di questa popolazione per capire un attimo se era possibile cambiare le modalità di atteggiamento di stile di vita e di diminuire i rischi comportamentali che potevano appunto portare alle malattie infettive trasmissibili altrimenti avrebbero avuto appunto anche un'evoluzione peggiorativa la modalità per approcciare questo problema è stata quella di migliorare la coscienza delle persone rispetto alla propria salute quella di migliorare il rapporto con i pazienti e il personale sanitario e quella di soprattutto di diminuire appunto questi rischi per indurre un cambiamento di stile di vita per la prevenzione primaria di malattie appunto non ancora comparse la modalità è stata questa il lavoro viene svolto da volontari e da 11 persone complementari che svolgono un'azione di tipo supportativo i lavori che sono stati fatti fino adesso hanno riguardato l'inizio soprattutto è nato nel 97 quindi sono diversi anni nei primi anni abbiamo fatto diversi lavori in Africa cercando di formare soprattutto e di affiancare il personale sanitario che si occupava la lotta dell'AIDS e della pannutrizione infantile mentre invece in Italia abbiamo seguito soprattutto i migranti con due progetti importanti che sono quello dell'antropologia in clinica che per migliorare l'apporto e l'adesione alle cure alla prevenzione delle malattie che si svolge presso l'ambulatorio MISA e l'altro è quello invece dell'ELISA che è un progetto di educazione sanitaria ed educazione e informazione sanitaria per una alfabetizzazione della popolazione trovando appunto molti fattori di rischio in questa popolazione per le malattie infettive non trasmissibili assolutamente importante è l'azione delle mediatrici culturali su questo lavoro che non sarebbe stato possibile fare e che abbiamo svolto che svolgiamo quest'anno nel CERMIG e nell'ambulatorio della casa di quartiere di San Salvario Mi chiamo Alima ho avuto il modo di conoscere ASPIC preso l'associazione Camminare Insieme sede in cui ASPIC per alcuni anni ha realizzato interventi di alfabetizzazione sanitaria col passare del tempo ho assunto un ruolo attivo e oggi collaboro con i medici ASPIC nella realizzazione di interventi formative e nell'attività di prevenzione la mia attività consiste nell'accompagnare il migrante lungo tutto il percorso prevenzione nello specifico tradurre e fai comprendere a fondo la raccomandazione del medico prenotare e accompagnare l'utente ai servizi che erogano la prestazione raccomandata sollecitare il controllo programmato per la verifica che il percorso prevenzione sia stato completato l'esperienza in corso mi ha fatto rilevare che la metodologia adottata è efficace visto che la maggior parte dei migranti completa il percorso prevenzionale anche se in un'ottica sostenibilità futura risulta difficilmente realizzabile con le risorse del servizio sanitario nazionale vantaggi indubi sono la prevenzione di malattie trasmissibili l'identificazione precoce dei tumori e l'accesso a un percorso per la modifica dei comportamenti e altro ancora barriere importanti rimangono il pagamento del ticket per alcune prestazioni e la non iscrizione al servizio sanitario nazionale buongiorno sono Fabrizio Antonielli Dulx e sono vicepresidente di Univoca Univoca vi dicevo è nata nel 1990 quindi ormai siamo per festeggiare i 20 anni della nostra associazione raggruppa un numero incredibile di associazioni 21 associazioni di volontariato più un'altra serie di associazioni non volontariato come ONLUS ma comunque che operano nello stesso ambito gli scopi gli scopi sono fondamentalmente promuovere il volontariato culturale coordinarlo e formarlo perché abbiamo verificato che è necessario anche cercare di formare il volontariato per presentarci agli enti preposti alla conservazione alla tutela dei beni propri della cultura in un modo strutturato in un modo organizzato in un modo formato siamo iscritti nel registro regionale del volontariato come associazione di secondo livello quindi proprio le associazioni che associano altre associazioni siamo soci fondatori del centro servizio del volontariato qui a Torino si chiama Volto e aderiamo al centro nazionale del volontariato di Lucca che è una struttura nazionale che raggruppa a sua volta il volontariato italiano le nostre associazioni che cosa fanno ma fanno un po' di tutto in realtà affiancano musei museo egizio la palazzina di stupidige dell'ordine mauriziano il staffarda e qui solo per citarne alcuni si occupano di chiese la sacra di San Michele l'associazione amici della sacra è proprio tra le fondatrici di vent'anni fa di Univoca la chiesa di Fruttuaria la cappella dei mercanti insomma anche di questa ce ne sono tantissime si occupano di località specifica per esempio Avigliana è una delle cittadine che viene seguita dal volontariato culturale e poi promuove le vere e proprie normali attività di volontariato culturali quali conferenze quali concerti e così via stiamo allargando il nostro interesse anche per esempio a pronatura perché la cultura pervade qualsiasi iniziativa quindi anche quello che è il volontariato sociale eccetera è giusto che abbia uno spazio per la cultura ma vorrei parlarvi ancora di un progetto e per questo lascio la parola a Gabriella Monzeglio che ci presenterà questo progetto su cui stiamo lavorando il progetto è Agorà del Sapere è un progetto che ha avuto un riconoscimento dalla regione Piemonte dal ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla città di Torino e dalla città metropolitana si tratta di Agorà del Sapere quindi una piazza virtuale per creare luogo di incontro tra associazioni enti di formazione musei e centri di ricerca da un lato e cittadinanza e scuole dall'altra l'obiettivo è arrivare a creare meeting online quindi utilizzare le comunicazioni a distanza per proporre interventi formativi possono essere il dialogo con un esperto in materia può essere una conversazione con una guida turistica che presenta il centro storico della propria città con uno scrittore o addirittura con altre realtà scolastiche il tutto avviene online in modo assolutamente attivo quindi non è un semplice video che viene visionato appunto online ma c'è sempre una persona fisica che interagisce con queste realtà scolastiche pensiamo agli sviluppi possibili anche a livello di anziani di disabili piuttosto che di bambini ricoverati in ospedale che in questo momento hanno la possibilità di continuare la loro carriera il loro ciclo scolastico con le scuole il tutto è visibile su www.agoradelsapere.it l'invito che vi lanciamo è quello per le associazioni perché abbiamo già tanti partner ma a intervenire a questi progetti e alla cittadinanza e alle scuole a scegliere da questo calendario le loro attività che più preferiscono ben trovati sapete tutti cos'è l'UNESCO che tutela i patrimoni dell'umanità riconosciuti in tutto il mondo sono beni materiali e beni immateriali e i club per l'UNESCO e a Torino ce n'è uno molto importante fungono un po' da supporto a questa grande azione che fa l'UNESCO per salvaguardare le cose più belle del mondo e Maria Paola Azzario la presidente del club UNESCO per Torino intanto diciamo che l'UNESCO di Torino ha sede nel campus dell'ONU no? Sì noi abbiamo la fortuna di avere dal 1985 la sede come centro per l'UNESCO di Torino all'interno del campus dell'ONU che è il luogo dove le Nazioni Unite hanno situato ben tre organizzazioni internazionali l'organizzazione internazionale del lavoro l'UNICRI che fa ricerca sul crimine organizzato e lo staff college che porta a Torino tutti i funzionari dell'ONU che devono rivedere la loro formazione per poter far fronte a tutte le sfide che l'umanità comporta quindi si sta in un contesto insomma internazionale si ha la fortuna di essere in un contesto internazionale e quindi di tradurre il contesto internazionale per la regione Piemonte per la nostra bella nazione ecco voi fate soprattutto un'azione di stimolo di far crescere in sostanza la coscienza di quella che è la bellezza dell'umanità soprattutto nei giovani avete fatto una recente iniziativa con oltre 800 ragazzi alla Cavalerizza a Torino si ogni anno noi lanciamo un percorso formativo per gli insegnanti e per i loro studenti su tutto il Piemonte proprio per far conoscere le priorità dell'UNESCO un direttore generale dell'UNESCO Federico Maior che per dieci anni fu direttore generale dal 2000 al 2010 chiamò i centri e i club per l'UNESCO i nostri cammini di luce dicendo se noi ci limitassimo a quello che facciamo a Parigi pochi conoscerebbero la nostra azione grazie ai club UNESCO e ai centri UNESCO che portano avanti la nostra azione sui diversi territori nazionali e regionali finalmente l'UNESCO viene conosciuta e si sa quello che noi abbiamo intenzione di fare quello che noi programmiamo ogni due anni con le assemblee avete fatto delle azioni soprattutto con i ragazzi dicevamo fate dei percorsi veri e propri con le scuole in tutto il Piemonte sì noi abbiamo la convinzione che l'educazione sia la strada sulla quale bisogna camminare proprio per investire sul presente e sul futuro i ragazzi li coinvolgete in iniziative concrete però i ragazzi fanno un cammino con i loro insegnanti e alla fine di questo cammino ogni anno vengono a raccontare loro e diventare protagonisti per una e più giornate di quello che hanno fatto lo restituiscono ai loro coetanei ma lo restituiscono anche a tutta la regione Piemonte raccontando che cosa hanno scoperto per esempio per quanto riguarda il tema di quest'anno rispetto all'ambiente il tema di quest'anno è la vita sulla terra conservare e proteggere la salute delle piante e dell'ambiente intorno a noi questa è un'attività che conduciamo insieme all'Università di Torino al Dipartimento di Agraria a Agrinnova con delle competenze che arrivano ovviamente direttamente dai luoghi di ricerca ci saranno appunto tutto percorsi di incontri anche vere e proprie iniziative sul campo sul territorio nelle diverse scuole poi a maggio la grande iniziativa con oltre 1600 ragazzi convocati appunto nel campus per concludere questo percorso sì questo è un altro beneficio che il campus ci offre la possibilità di poter portare i ragazzi a concludere i loro percorsi all'interno di un ambito internazionale i ragazzi fortunatamente oggi hanno capito che varcare le frontiere non è una cosa così difficile e capiscono anche che quello che di internazionale c'è nella nostra città va conosciuto va interpretato e va soprattutto assimilato per poter avere una battuta ma le amministrazioni pubbliche ascoltano i consigli dell'UNESCO dipende da quali sono le amministrazioni pubbliche molte volte sono al nostro fianco altre volte hanno un pochino più difficoltà però noi le abbiamo coinvolte da subito sin dal 1983 e dobbiamo dire che la sede per esempio al campus è una sede nazionale è una sede che il sindaco di allora ci dette che i vari sindaci che sono susseguiti hanno continuato a darci quindi possiamo dire che le amministrazioni pubbliche comunque ci sostengono Viva l'UNESCO in sostanza Viva l'UNESCO Come si fa per iscriversi all'UNESCO? Per si diventa soci del centro UNESCO di Torino e dei vari club UNESCO che in Piemonte per esempio sono 12 sparsi su tutto il territorio Grazie 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 a voi I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale Buona visione